buonasera ragazzi vi faccio adesso questo video per il calcolo sesta del mese il calcolo della sesta del mese che viene poi giocato su cagliari torino ve lo faccio stasera singolarmente in modo tale che lo pubblico e poi domani mattina faremo un video nuovo per l'aggiornamento per le stazioni di domani sera stasera vi dico già vi anticipo abbiamo stravinto ma stra stravinto con l'otto mio ambetto secco a milano spaccato 4 e 17 ma la stessa previsione l'otto mio ha pagato sulla nazionale 4 e 16 in oro ambo secco a due numeri ambo secco spaccato 4 e 16 a due numeri sempre dall'otto mio la stessa previsione che ha pagato l'ambetto a milano 4 e 17 cioè questa previsione l'otto mio al sesto colpo ha pagato sia l'ambetto secco su ruota che l'ambo secco e è in terzina sulla ruota nazionale quindi non solo il 4 e 16 secco ma anche in terzina chi l'ha giocato con oro ha vinto molto molto di più ok l'otto mio ha spaccato sesto colpo di gioco a straspaccato mandatemi le foto degli scontrini vincenti mi raccomando poi abbiamo beccato il 78 su venezia prima posizione è terminata prima posizione è terminata ragazzi parliamo domani mattina delle vincite ok abbiamo stravinto stasera punto ok adesso passiamo al metodo sesta del mese ok eccolo qua le ruote sono cagliari torino questo è un metodo regalato che non apparirà sul web ma questo video ricordatevi che l'ho fatto potete riguardare questo video non la menzionerò più questa previsione non la pubblicherò negli aggiornamenti è metodo sesta del mese per calcolare l'ambata si fa il quinto estratto di bari più fisso 7 allora quinto estratto di bari 23 più fisso 7 fa 30 io lo scrivo qua ma poi ho già fatto la bella qua in brutta è il primo ambo è 30 e il primo abbinamento si fa quinto di cagliari più fisso 31 allora cagliari quinto di cagliari 29 più fisso 31 fa 60 bellissimo ambo terzina simmetrica questo è il primo ambo il secondo ambo sarà sempre 30 con il secondo abbinamento secondo della nazionale più fisso 83 andiamo a vedere secondo della nazionale 4 più fisso 83 ragazzi 87 la previsione che ho già preparato il foglio elaborata dalla sesta del mese è questa qua cagliari torino recupero nazionale tutte ambata 30 si giocherà 30 e 60 ambo ambetto 30 87 ambo ambetto chi vuole può fare direttamente la tersina 30 60 87 ambo terno ed eventualmente ambetto ok questo è il calcolo della sesta del mese ragazzi mi raccomando il video rimarrà qua con scritto punto conteggio o calcolo della sesta estrazione del mese metodo regalato a tutti secondo me questo mese pagherà questa previsione il mese scorso ci è andato un pochino male ma sto mese secondo me questo bellissimo capogioco soprattutto questo zerato per me potrebbe essere ottimo nulla a togliere a questo bellissimo numero che ragazzi giocatela appunto io questo video lo pubblico adesso ma domani mattina ci vediamo perché dobbiamo elencare le vincite effettuate perché con lotto mio ho spaccato con l'unica previsione a tre numeri ho spaccato l'ambata in posizione che dire ragazzi non c'è niente da dire vi dico solo che ho spaccato anche col 10 lotto ogni 5 minuti fascia oraria da me indicata 6 su 6 centrati 6 numeri su 6 la bellezza che con un euro sono mille euro ragazzi io vi saluto ci vediamo domani mattina questo è un breve video per la sesta del mese e noi ci sentiamo domani mattina un bacio a tutti e buonanotte